Qualche giorno fa un appassionato tennista mi ha scritto se è possibile allenare il lancio di palla ovviamente nel servizio stando a casa, visto che in questi giorni non possiamo muoverci più di tanto, gli spostamenti sono limitati, di certo non possiamo andare al circolo di tennis per giocare ed allenarci. La settimana scorsa ho pubblicato un paio di video dove mostravo alcuni esercizi che possono essere fatti tranquillamente a casa con racchetta e pallina, basta avere un po' di spazio. Negli ultimi giorni poi altri insegnanti di tennis hanno pubblicato su youtube, facebook o instagram dei contributi molto interessanti per quanto riguarda l'allenamento che può essere fatto a casa. Vi consiglio di andarli a vedere, andarli a cercare, l'obiettivo ovviamente è quello di rimanere un po' in movimento ed evitare di far passare un mese, quattro settimane senza toccare la racchetta, senza allenarsi, senza fare un po' di moto. Oggi voglio proporvi un esercizio che può essere fatto tranquillamente a casa, anche dentro casa, non necessariamente all'aperto, per migliorare il lancio di palla nel servizio. È sufficiente avere una pallina, quindi non serve neanche la racchetta. E questo esercizio può essere utile, anzi è utile per allenare sia la velocità del braccio che lancia la palla, sia la separazione tra il movimento del braccio che lancia la palla e il movimento del braccio che tiene la racchetta o comunque che dovrebbe sorreggere la racchetta. Farlo al chiuso, anche in un garage oppure dentro casa, può essere, anzi è utile per allenare soprattutto la velocità della mano che lancia la pallina, perché spesso i giocatori amatoriali tendono a fare questo, a velocizzare un sacco la mano che lancia la palla e quindi la palla perde di controllo, va avanti, indietro, destra, sinistra e non si riesce bene a controllare il movimento poi del braccio destro o comunque del braccio che sorregge la racchetta. Quindi il mio consiglio prima di tutto è quello di fare dei lanci di palla, quindi scendendo con le mani e lanciando la palla, afferrandola poi sopra la testa. L'obiettivo è far sì che la palla quasi sfiori, tocchi il soffitto, non in maniera troppo veloce ma proprio leggera. In questa maniera impareremo a sentire la velocità del braccio che lancia la palla, che non deve essere troppo veloce ma neanche troppo lento. Una volta che abbiamo trovato questa velocità e sensibilizzato il lancio di palla, che deve essere fatto più o meno qui, cioè la mano si deve aprire più o meno all'altezza degli occhi, non troppo presto, se no perdo il controllo, ma neanche troppo tardi, se no la palla mi va indietro. Quindi quando la mano si trova più o meno all'altezza degli occhi, la apro e faccio salire la palla. Una volta fatto questo esercizio, fatto un po' di ripetizioni, posso anche muovere il braccio destro, nel mio caso il braccio sinistro se siete mancini, in maniera tale che nel momento in cui io apro la mano e salgo con la mano sinistra, il braccio destro si trova in questa posizione, quindi piegato e con la mano obliqua, quindi non completamente rivolta verso il basso, quindi non così, ma neanche così, quindi nella classica posizione del cameriere, ma in posizione leggermente obliqua, perché questo poi ci permetterà, una volta che la palla raggiunge l'apice, di salire con la racchetta, scendere dietro alla schiena e poi accelerare e andare all'impatto. Una volta che riusciamo a fare una decina di ripetizioni, facendo attenzione a questo aspetto qui, quindi nel momento in cui lancio la palla, il piatto cordo deve essere rivolto leggermente verso il basso, o meglio la mano, possiamo prendere la racchetta in mano, andare all'aperto e provare a fare qualche servizio, cercando di fare attenzione a questo aspetto qui. Ovviamente questa è un'indicazione di massima per coloro che fanno il servizio con questo tipo di preparazione. Se invece uno fa un tipo di preparazione diversa, quindi prima lancia la palla e poi muove la racchetta, allora questo non è proprio l'ottimale. Però se siete dei giocatori principianti o di livello intermedio, molto probabilmente farete questo. E allora fare questo esercizio a casa, cercando di sfiorare il soffitto con la palla, è un esercizio utile per allenarsi un attimo a casa, bastano 5 minuti, e per sentire la separazione tra il movimento del braccio che lancia la palla e il movimento del braccio che tiene la racchetta. Per vedere gli altri video ti invito a cliccare sui link presenti nella descrizione qui sotto del video, oppure guardali pure alla fine di questo contributo. Se poi hai piacere di ricevere dei consigli personalizzati per il tuo servizio, il dritto o il rovescio, da qualche settimana abbiamo aperto la videoanalisi a distanza. Qui sotto nella descrizione del video ti metto il link dove trovi tutte le informazioni a riguardo. E se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al nostro canale YouTube, qui in basso a destra c'è il pulsante, e ti ricordo di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui contributi che pubblichiamo.